Comincia dall'Open Day la nuova avventura dell'olona calcio e vita. Si punta tutto sui bambini e con le giornate di sabato e domenica 4 e 5 settembre si metterà in campo il primo piede per la costruzione di un nuovo settore giovanile che calcherà i campi di mezza provincia. Accanto alla società un padrino d'eccezione, Stefano Bettinelli, pronto a lanciare per primo la nuova avventura. Abbiamo l'intusione delle stelle, nel senso che arriviamo tutti dal calcio più o meno a un certo livello, dunque abbiamo la volontà e la voglia di ricominciare facendo quello che aveva già detto il nostro direttore sportivo, cioè cercando di insegnare quello che è il calcio vero e di far divertire i bambini. Sicuramente è la nostra mission e cercheremo di portarla avanti fino a che non ci riusciremo, questa è la nostra convinzione già da quando ci siamo riuniti la prima volta. Ecco insomma, dietro c'è anche una storia grande da onorare e poterlo fare con i bambini e forse è un po' proiettarsi nel futuro. Sì, sicuramente, sicuramente è una sfida che noi abbiamo accettato ancora prima di avere quei bambini e come se le avessimo già, cioè praticamente abbiamo già tutte le idee chiari di quello che fare. Farlo per loro, per loro e loro famiglie, cioè ricominciare da quello che il calcio era tanti anni fa, cioè il divertimento e il gioco e portarli nella vita che in questo momento non è così facile, è proprio per quello che diciamo che è una sfida, ma sicuramente, visto il nostro entusiasmo, cercheremo di portarlo avanti nel migliore dei modi, cercando di farlo il più sinceramente possibile, proprio la parola giusta è questa, anche se mi sono ripetuto comunque, è proprio quello che viene dal cuore, riuscire a fare quello che i bambini vogliono, divertirsi, è la cosa principale. Grazie a tutti.